Benvenuti in questo nuovo video di GTA V Si ritorna a fare i buoni biglotti Si ritorna ad inseguire la macchinina E parte Mark Per fortuna non sono io raga Perché c'ho sto golfino rosa In una macchina blu e inquietante Abbiamo cambiato zona della mappa E quindi dovrebbe essere cambiato anche il tuo veicolo Ah bello, quindi sono cambiati i checkpoint Ci sono sette mappe disponibili di questa malità Sembrano sette video Le facciamo tutte raga E secondo me in tutte Mars non capiterà mai come fuggitivo Ti prego non lo dire Ragazzi posso fare una cosa? Allora facciamo così A 100.000 mi piace Eccolo Facciamo la doppia mappa in un video 100.000 mi piace Secondo me li possiamo fare in questa modalità Guarda come si schianta Guarda Che diavolo Dico è bello Vai The Mark vai Che chiedi mi piace E invece l'avete con me Vabbè Diccio di assolta Bravo Penso che avrebbe dato la rinascita Ronaldinho sono io Vi dribbo tutti Vi dribbo tutti Vi dribbo tutti Oh Che sberle che sta prendendo Questa è questa pesante Dribblo Non proprio Aiuto Non si è andata proprio bene Chiudiamolo Chiudiamolo Ok È bello quando sono gli altri fuggitivi Quando l'ho fatto un po' meno Per me è il contrario Oh Beh Bravo E la gala abbiamo chiuso quasi Io preferisco fare la polizia Che Io vorrei fuggire ragazzi Ma perché non l'hai fatto Perché non l'hai mai fatto Dopo che lo provi Poi ne riparliamo Chiuso e chiuso Allora Una cartolina con l'autografo Stampato Boom A piena velocità Raga ma doveva girare l'altra però Ma che vuoi Mannaggia te Mannaggia Guarda 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 come scappa Un felino Ti ho sistemato Raga 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 li stiamo lasciando fare quello che vuole adesso però eh Eh sì Avete sbagliato a fare la mia stessa strada Io non ero neanche arrivata Quindi non mi rompere Avete rovinato tutto Complimenti Bravi Da sette raga Preso L'ho preso L'ho preso Bello Raga chiudiamolo Chiudilo Arrivo 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 Eccomi Troppo tardi raga Troppo tardi No no va bene Va bene Ok No ci siamo dai L'abbiamo rallentato Ok Ok Guarda Guarda Come sta Tra Avete andato Che non parla più Adesso Parla più È nel silenzio Il tryardino Sto parlando Ragazzi Ma chi stai parlando Quando è che stavi parlando Cos'è mangiato Ieri mezzogiorno Marco La pasta al pomodoro Ho visto che ancora E l'altro ieri La pasta al pomodoro E a colazione La pasta al pomodoro Aia Le cereali dei campioncini Al pomodoro Ma mia Ma mia Che schifo Potrei vomitare Raga L'ho fatto volare Che davvero A centomila Mi piace Anco Basta Marco Mangia i cereali dei campioncini Al pomodoro No ragazzi Vi prego Sì raga No Non so l'avete capito Non mi era chiaro Non mi era chiaro Hai deciso di cambiare location Dai Guarda come scappa Mi ha preso un altro Raga È dieci Eh ma Si è allenato un po' Il campioncino Non mi ha giocato Un batto Stanotte Sono dietro di te Ti punto Ok È ancora dieci È ancora dieci Va bene Ok Ok Deve andare in questo vicoletto per l'undici Di sicuro L'ha preso L'ha preso L'ho chiuso 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 Bello Chiuso Raga secondo me No Ok niente rinascita Peccato Peccato Una vendita in meno Ma ti rendi conto che quando non parla Non farete le vendite Steph Sì sì Impressionante Ma devo farle io Squattimi il libro Non è ancora mio Ho capito Però ormai avevi preso questo Andiamo 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 Ma guarda cosa ho fatto Qua sei stato bravo Ronaldinho In fascia È stato bravo in questo round Bravi Poveri Eh mi sa che la sua avventura finisce Secondo me non lo fa 12 su 15 Comunque sta Raga venite a bloccarlo Bravi Non può fare rinascita perché ha 20 secondi Vabbè lasciateli fare il tredicesimo No 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 Questa sarà una gara Chi ne fa di più Tredicesima libera per tutti Ragazzi Oh Ronaldinho In fascia Se ne va È scappato davvero No raga Li avete fatto prendere il tredici Lo sottovalutato È scappato davvero 13 Allora un secondo O a zero A zero Proprio l'ha preso Vabbè Esatto Io approfitto di questa pausa Per dire che trovate il link in descrizione Di rinascita Lo potete preordinare Prendete questa bellissima cartolina Con autografo Stampato Come potete vederlo Più lo urli Più se non ricordano Siete sicuri Ragazzi La recensione Non è proprio venuto Suo amato Non sa quei giorni Grazie mille per il supporto Siete fantastici Vi voglio bene 299 Appena le dette C'erano Ragà ma la scrivania Piena di cose Da prendere Da qui facci Si può prendere Anche Camille C'è se è troppo Un altro progetto Devo Devo cambiar casa Adesso venendo Da piangere Punto Allora Un po' Vende tutto Ma ci potrebbe Non essere di nuovo Chi è? Io No Ragazzi Non è poco Facciamo una cosa Io mi allevo con te Così almeno il quarto round Lo facciamo Se non dura troppo il video Eccola la macchina blu Steffo Già l'auto blu Auto blu No Mi sono incastrato Ragazzi Non ho fatto i predilici Ma questo auto blu Steffo In che senso ha fatto Quello che ha fatto Sembrava il modo più comodo Per fare Ragazzi Non riesco a capire Neanche dov'è Cioè Neanche io Corro Corro in città Corri Corri in città Steffo Corri Steffo Corri L'ho preso Ok Ciao Steffo Ciao grazie Aiuto Dov'è Corro Corro in città Corri Corri No È chiuso È chiuso È chiuso È chiuso Raga È chiuso Ma te non può sgusciare No Non può Raga Cosa ho fatto Cosa ho fatto Corro Corro In città Ha la macchina scivolosa Rispetto agli altri Io ve lo dico Ha messo l'olio No raga Il ciappone Cosa ne so Do stai Parapaparapà Sto triardando il campione Oh raga Raga io non ce la posso fare Cioè quando gioco con set Ma cosa sti facendo Mi sento demoralizzata Prima mi diverto Poi mi sento male Quindi basta Devo fare il giro lungo io Parapaparapà Dov'è Io non capisco Neanche dove sta Parapapapapa Dai ragazzi Guarda Guarda Ma i pali della luce Cosa sono Di giganti Ragazzi Ma non è tutti contro tutti Ragazzi Raga mi destabilizzo Brava chiudilo Ok Per l'omolo l'ho rallentato Raga Perché poi sguscia uguale Cioè Chiuso Aia No 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 Rinascita 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 Ma scusate Ma scusate No ma tranquillo Steffo eh Ciao Quindi rinascita Tutti come gli alberi Sono fatti di cemento Allora Lo avete chiuso Dove è? Eh sono rimasto fermo E qua il dannato Ragazzi Auto blu corro con i miei fra Buona Aia Ok Ragazzi bravi Bravi Bello Possiamo farcela No No raga Non ci credo Ragazzi A 50 secondi Non Perdiamo il punto focale di step Non so cosa ho detto Però va bene Vabbè Si è capito Tranquillo Incastatelo lì Incastatelo lì Cos'era Ebbè cosa devo fare Ma che punto era Aia No parola No è rinato È rinato Buongiorno Buonanotte Farne 3 in 20 secondi è dura Si è impossibile Però potrebbe superare Mark Potrebbe Deve farne un altri due Deve farne Io vi ricordo che se dopo non ci sono Io ho quinto Io ti cederei volentieri il mio posto Ti giuro che è la peggior mappa Fermatelo Non ce la fa Non ce la fa Non ce la faccio Ho fatto più punti di te Ma dove stava Ma fa schifo sta mappa Ma non ti lamentare Le spacco qualcosa Le spacco qualcosa Le spacco qualcosa Le spacco qualcosa Le spacco Le spacco Le spacco Le scelto tu Non ti puoi lamentare Tant'ora non c'è Marci Tant'ora non c'è Marci Io sto fermo Ora è fere No raga Ora è fere Non mi dite queste cose brutte Guarda No raga non ci credo Io voglio venire a piangere Mi stanno venendo a piangere raga Vi giuro Dai no Io non voglio essere Ma non è possibile raga Non è possibile È fere? Sì o lei Ma perché non posso giocare? È giusto così È giusto così Io non voglio giocare Perché non posso scegliere? Fate schifo Voglio la libertà di poter scegliere 32 e 23 al contrario Io non voglio giocare più Basta Supporta credit s23 e 17 anche se GTA Fate schifo Io la faccio volare su Marte Tranquillo Adesso ti faccio volare anch'io Stef No BOOOOO Però ho preso il checkpoint Quindi mi hai solo aiutato Ti smonto l'auto Aio ragazzi Lasciatemi in pace Facciamo vincere fere? Sì Io la faccio vincere Giochiamo contro Stef Facciamo vincere fere Perché sono l'unica che volla? E non fate mai volare nessuno Tranne me Comunque il volo come nel primo video ragazzi Ma perché anche senza voler Non riusciamo a chiudere le persone? Guarda Quanto siete capi Vai fere esci Bene parcheggi Brava Posso uscire da qui Fere ti salvo Scappa Ti provo Fa il bodyguard Marte Raga ma i checkpoint sono qualcosa di Di ridicolo Occhio Chi è volato? Io Tutti Devo rinascere Raga non trovo i checkpoint Io non so che dirvi Te l'ho detto che fa schifo sta mappa Voglio piangere Non ci sono checkpoint Prima erano molto più semplici Nell'altra Ma che zona è questa? Il cinema Ma ci passa? No Hollywood Oh sono passato Oh c'è un checkpoint qui Porca miseria Allora Eh vabbè Grazie Marci Prego prego Eh ma ascolta Se Fere deve vincere Non lo facciamo fare più bene Ma dai ma non può già vincere È ovvio Perché? Beh ma con tre minuti Ne ha tre E quindi? Una media di uno al minuto Per ora Posso fare una rimonta La rinascita Esatto Vabbè Potrebbe farcela Se Marci magari Continuasse a fare Il suo lavoro da bodyguard Perché io No No Chi ho dietro Eh Indovina Step Prema di colpo Fere Ci ho provato Però mi è incastrato in un angolo Guarda Ok Ho beccato Steph Vai corri corri Fere Ho tolto Marco No Marco non succedo Togli Maggio Guarda come sguscia via Guarda chi sta sbucando da qui Come uno in favore Ovviamente Ti faccio il dito nero Raga Io l'ho visto T'è bene Ti censuro No te l'ho fatto anche l'altra volta Quindi Ma almeno non te l'ha visto Ma che si fa raga Con il tasto destro Perché siccome non è un'arma Quindi vengono Raga guardatemi No 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 Raga guardatemi Raga Dai Non fai sti piccoli No no Veloce Veloce Che passi Veloce Veloce Sì Vai vai Bravissimo C'è Marci Veloce Veloce Il trenino Gli ho fermati un po' Fere Quello che vogliamo Andiamo Step Mamma mia Sarebbe bello Secondo me 2v2 No non è possibile Non è possibile Però sarebbe bello Effettivamente Eh ma dovrebbe essere Tipo 10 minuti Per quelli che cercano Allora ok Ah Oh Questa era brutta Incastrata? No Grazie Era troppo potente Ma raga Ma mi si vede il motore Dai Fere 8 Fere 8 6 Fere è un tonno blu Sì Aia Però Fere non ha rigenerato mai raga Raga ma dove C'ha uno che La salva Perché almeno finisce Il pretta round E poi tocca a Marci Capite? No a me non tocca Perché Steph chiude il video Lo sai benissimo Sì sì Infatti io l'ho chiuso Già No non chiudere il video Stai Lo chiedo prima che farei finita Sto finendo veloce Ma dove? Sto andando bene Io vorrei fare Raga ma sono dall'altra parte del mondo E ho i cecpo Eh Marci Dimmi Niente Non mi esprimo Che posti sono? Via via Bravo No l'avete chiuso Fatela passare raga Ok brava Ci si si in mezzo così No Scusciate come un felino Guarda che sono difficilissimi No Ma dai ma quel palo cos'era? Potresti superare Marco Marco Di sicuro Steph Quanti ne ha fatti? 12 e 13 Marco Io ne ho fatti 13 Ma io non ci credo 2 v2 però ci sta eh Beh ci mancherebbe non far punti Scusi Sorry Cosa sono io Ma ma chi fa il 14 14 Però non faccio il 15 Sono troppo lontani Donnaggia Ci avevo quasi fatto Troppo lontani Sono troppo lontani Incastrata sulla semafora raga È finita Però ne ho fatti più di tutti voi Canto che mi prendevate No dai Marci Deve giocare Ho finito veloce per quello Ci vediamo in descrizione Ciao